Lieve frenata dei nuovi casi e leggera risalita dei ricoveri. Sono questi i dati principali contenuti nel consueto bollettino epidemiologico pubblicato dalla regione che fa registrare in Puglia 8.117 nuovi casi su oltre 43.000 tamponi e purtroppo altri 9 decessi. I casi odierni sono così suddivisi, 2.522 nel Barese, 1.521 nella provincia di Lecce, 1.235 nel Foggiano, 1.005 nella provincia di Taranto, 863 nella Bat e 841 nella provincia di Brindisi. Torna a risalire il tasso di positività che dal 13% passa a quasi il 19%. Nonostante gli oltre 4.200 guariti odierni risale anche il numero degli attualmente positivi in Puglia che sono quasi 127.000. Dopo il netto calo nella giornata di ieri tornano ad aumentare i ricoveri negli ospedali pugliesi. Sono 698 le persone ricoverate in area non critica, più 14 nelle ultime 24 ore. Mentre sono 66 i pazienti che lottano contro il virus nelle terapie intensive, più 5 rispetto a ieri. Intanto, secondo la rilevazione della Fondazione Gimbe nella settimana dal 19 al 25 gennaio, i nuovi casi sono diminuiti del 12,2% rispetto a sette giorni prima, un primo segnale di rallentamento della quarta ondata Covid in Puglia.